Rintracciato e arrestato dagli uomini della Polizia di Stato, un quarantenne sassarese sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare con l'accusa di rapina. L'uomo, lo scorso 23 marzo, si era reso responsabile del furto di alcuni oggetti prelevati dalla Galleria Montserrat. Scoperto da una delle addette alla vendita, non ha esitato a minacciare la donna puntandole contro una siringa per garantirsi la fuga, con il bottino che aveva nascosto nello zaino. Il fatto era stato registrato dalle videocamere di sorveglianza collocate all'interno del centro commerciale ed è proprio la visione delle immagini che ha consentito agli agenti di risalire all'autore della rapina. L'uomo, che è stato arrestato questa mattina, è stato trasferito nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria.